Temicello, da dove viene e cosa ha fatto? Io in pratica ho consegnato le zeppole, i taralli, il pane, i lupini alle persone che non stanno bene, ai malati, di tutto poggiardo quindi consegno la lista che sono quasi 130 persone che abbiamo visitato ha consegnato dei pasti alle persone meno abbienti? Non meno abbienti, malati, diciamo, che non possono venire qua alla Sagra E sono offerti proprio da lei? No, sono offerti dalla Sagra, dal comitato di San Giuseppe io facevo parte solamente della macchina e distribuivo, io guidavo e confezionavo Ma assaggiava anche? Anche abbiamo assaggiato, anche Signor Cosimo Bono, quale componente del comitato San Giuseppe? Questa è la lista che ci ha dato Don Gino Sono tutte le persone che va a fare la comunione Don Gino e noi abbiamo avuto il pensiero a loro che non possono venire a trovarci di andare noi a trovare loro Un eccellente pensiero C'era anche Antonio Ciriolo con noi Dottore Ciriolo del comune Lui distribuiva Presidente della Frates E si prendeva i grazie lui Ah, ma credo che anche lei, signor Micello, abbia preso delle grazie No, io stavo al confezionamento, non sono andato Ho capito Comontario Giuseppe Astore Giuseppe Astore Non c'è Giuseppe Astore Al momento non c'è Siamo nella fase preparatoria della Sagra Signore è anche presente Il signor Toto Pi'anziano Pi'anziano, componente della Sagra Di anni? Quanti anni? 91 91 Bravissimo Cuccio Va bene Scusate, volete fare un saluto agli amici di Poggiardo Online? Ciao Poggiardo Online Ciao Poggiardo Online Abbiamo da lavorare ancora adesso Noi lavoriamo per voi